Direttamente dal Museo Festival della Zampogna di Villa Latina, a notte della Tammorra 2019, i suonatori di zampogne, organetti, ciaramelle e danzatrici del Basso Lazio, diretti dal maestro Domenico Fusco, con Diego Fusco, Angelo Fusco, Luca Petrilli, Salvatore Sarda, che indosseranno abiti tipici della loro terra, con i famosi scarpitti. Al suono di saltarelli e ballarelle danzeranno Maya Tedesco, Marilena Norato, Lorenza Di Stefano e Cinzia Somparelli. Per il popolo della Tammorra della Rotonda di Iaz, le zampogne del Festival e del Museo di Villa Latina. Grazie! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi salutiamo con un saltarello. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.